buon pomeriggio e buon anno nuovo ciao a tutti auguri sveva che bello auguri a tutti voi oggi è il nostro nostra prima puntata del 2023 come auspicio al nuovo anno una fotografia che ci mandate voi come sempre oggi ce la manda rita mandarano e ce l'ha proprio mandata lei è la nostra affezionata telespettratrice e ce l'ha mandata proprio prevedendola come buon auspicio per il 2023 perché dice è un'alba dalle olie un'alba e oliana e mi è parsa carina dice come buon auspicio per il nuovo anno quindi è un piacere farla vedere oggi è il sereno che riappare dietro esatto dietro la tempesta si vede il cielo che si ritorna sereno insomma è un buon auspicio dai bellissimo è bella foto tra l'altro bellissima bene ma allora cominciamo subito emanuele con che cosa ora sveva parliamo di un animale iconico l'animale che porta secondo la leggenda e 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